Bentornati, buongiorno, ciao a tutti, come state? Spero bene, oggi in questa nuova puntata, in questa nuova live di Perfette Sconosciute abbiamo due ospiti specialissimi Due Perfetti Sconosciuti, che sono Rocco e Lollo, ragazzi Ciao, io presento Rocco Ciao, sono un 45enne di Venezia, ho gli occhi veramente tanto marroni e non faccio ridere, prego Io sono Lollo, il mio unico personale di trait è che sono tornato all'America And that's it, period Period Perfetto ragazzi E voi chi siete? Io sono Viola, studio filosofia, parlo molto bene, ho gli occhi azzurri e... Che palle, io vorrei strainsultarla Infatti ti sta dicendo solo complimenti Non ho niente da dirti di negativo, non è vero È troppo buona In realtà aveva le cose talmente brutte Che non si possono dire Che non posso dire Certo Che non posso dirle Io sono Nina, sono un po' egocentrica, ma a volte tanto tanto umile Amo le mie amiche e la mia vita E la moda E la moda, a studio fashion Studio fashion Fashion design Fashion design E oggi faremo questa puntata un po' così, un po' birichina, un po' pazzerella Spessante Esatto Facciamo un po' di giochini perché abbiamo voglia di divertirci Sì, anche noi Perché basta chiacchiere Basta Basta chiacchiere Parliamo troppo E innanzitutto vorrei chiedere a te come fosse andato il tuo viaggio Bene Perché sei appena tornato, comunque ci sta Bene, sono molto contento Sono appena tornato, non dall'America Ma dalle Filippine Ok È stato bello, un po' Dove hai vissuto per sei mesi Giusto? Sì, sì, sì Un po' stancante Perché comunque tanti voli interni E poi l'età comunque amo E poi l'età gioca il suo gioco Gioca il suo gioco Comunque voli lunghi, alti, sessioni Però bello, molto bello I posti stupendi Poi sono anche un po' abbronzatino E quindi top Risaltano gli occhi marroni Sì No, comunque Quanto più bello mi vedo l'abbronzato è assurdo Poi comunque Cioè comunque c'è essa la fine Vero Cioè è assurdo È assurdo Ma vai con 12 cesti bianchi intorno Comunque spusate È quello C'è la vera mentalità È essere abbronzati d'inverno Sì Perché l'estate passa un po' E magari i bianchi in estate Così Tutti così Mentre essere abbronzati d'inverno Personalità Vero Che poi E i soldi Perché vuol dire che Ti puoi permettere di andare in vacanza A caso Oppure le lampade Dai Oppure stare sul terrazzo Oppure stare sul terrazzo È vero Avercene un terrazzo Vabbè Se sono sul terrazzo mio Forse muoio Tra inquinamento e altre cose Che ci sono in quel terrazzo C'è una fauna Non consigliamo Milano No Vabbè Vabbè Vogliamo iniziare Con questi Giù Allora Io Sono gasata No non lo sono Io sono gasatissima Perché mi diverto Andiamo a dire questi giochi Amo anch'io un botto Sono tipo i giochi Alcuni Del Classici show americani Jimmy Fallon Adoro Adoro Vediamo Vediamo Non vedo l'ora Patti non vedo l'ora Questa qua è una prova Per poi arrivare là Certo Pronti First game Allora, primo gioco Noi vi facciamo vedere delle foto in questo iPad E E Di persone Content creator E voi dovete dirci quello che pensate Il pubblico non vedrà Però potrà indovinare Però potrà pensare E voi dovete essere Onesti Oddio mi scappa cacca Cacca nelle mutande C'è sta schifosa Sono arrivate due persone meravigliose Vi amo un botto Sono bellissime Le veline Peccato che sono tutte due more No castane dai Belle però Io Andre è importante che Veramente non si vede in camera Perché sarebbe veramente Che non lo vedono il lavoro Faccio così Si vede in camera Perfetto Ok Non ha neanche controllato Andrea Ha detto solamente no Si vede benissimo C'è la gigantografia dietro Proietta Prima versora Ok Allora Inizio io Iniziamo bene Per me Allora Ora come ora In questo istante In questo momento storico In questo momento storico Ti dico Ok Who cares C'è ok C'è stato Amore per me Poi c'è stato anche Odio Ma amore No amore è proprio I love you Ok ok Si Però ora Dico ok Indifferente Ah ok Io comunque Digrigno un po' i denti Li digrigni amore Che devo mettere tipo Il bite di notte Però Sì vabbè Alla fine Indifferenza Si Che forse è il sentimento peggiore L'indifferenza Indifferenza è peggio Che brutto Filippo Ferrari Vi adoro Si è svegliato Non so chi sia Oddio non so chi sia Ah che cazzo sei Non so chi sia purtroppo Non so proprio Grazie Ah ma è quello di Marefuori Marefuori Un bacione Sei bravissimo Perfetto Ciao un bacio Sei il mio preferito Ti amo No voglio chiedere Tipo vi piace il suo lavoro? Quello che fa? Beh Allora Quello che fa No Sì Cioè Come lavora Tu dici Cioè come fa il suo lavoro Parliamo di proprio lavoro Quindi proprio Cioè Perché contenuti che crea suoi Ti dico Ok Però Boh Anche basta E tanti li ho visti Sì Da TikTok America Sì ne Period Non originale Period Però vabbè questa cosa di TikTok America Secondo me deve essere sdoganata Perché nel senso alla fine Alla fine poi tu vieni da lì E io vengo da lì E io copio anche quelli degli americani Mi cazzo me li frega Sono di tua origine Eh amore E quindi no Per quanto riguarda Ragazzo scritto Scusate Scusate sono entrata ora Di chi parla no? Eh no Ti dico subito È gioco È gioco Dovete indovinarlo Però per quanto riguarda Ah sì L'odio Per quanto riguarda I contenuti Proprio lavoro Secondo me Cioè Ci stanno Fa il suo Sì Va bene Ottimo Va bene A me piace Dai Parsimoniosi Sì poi non siete stati i cattivi A me piace A me fa ridere Io A me nervosisce da morire Ah Mi nervosisce Ai tempi Abbiamo due poli opposti qua Ai tempi appena era Era uscito Sì E Era uscito Sì E mi piaceva Cioè mi cazava Comunque era I primi tre video Mi faceva ridere Adesso di qua Ma basta Adesso è un po' piena Comunque ora Ce ne saranno Centinaia di migliaia di video Quindi sei rimasta tanto indietro Sì Sì Comunque In arriva dopo Tanto tempo fa Vabbè comunque Love you No Alla fine Love you Love you Senza Senza Come si dice Oddio Ma io ho paura Di far vedere Ma amo Basta che Non Ma da quello Non si vede No Love her Sì Ah No No vabbè Tu lo sai Io sono super fan Allora lui è mega fan Cioè è proprio Stan No 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 Sì ma posso anche dire Chi non mi interessa Sì 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 Però se poi lo dice La rama brutta Ah è vero No vabbè No vabbè no 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 infatti non lo diciamo No infatti non lo dico No veramente io l'amo Io ti dico È stata una delle prime persone Che ho conosciuto Ok Nella vita Appena nato Appena nato Abbiamo fatto la direzione E niente mi sono trovato mega bene C'è stato poi un momento di allontananza diciamo Che vabbè non so da cosa è stato dovuto Attica non si dice allontananza Allontanamento Porca troia raga Allontananza Allontananza Meno male che faccio il tiktoker Non ti stavo ascoltando Meno male che faccio il tiktoker Perché se no non potrei fare un altro lavoro No amo No veramente Assurde questa cosa Ma tu però non mi hai detto niente Cioè mi hai detto viola Ora che non ti stavo ascoltando No Ah ok perfetto Io ero zoned out Perfetto Comunque questa Beh io dico allontananza Vaffanculo Sì 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 Ehm Poi però ci siamo ritrovati Molto simpatica L'amo Sì Ah beh quindi E contenuti top Sì esatto no è vero Alla fine non c'è niente di cattivo da dire No zero Zero Io non ci berevi delle sue storie Cioè comunque i contenuti raga Mega 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 ricercati Sì vero Verità Verità sì Sono fatti bene Sono belli da vedere Cioè lei si Ehm Eh? Vabbè dai Secondo me proprio È Esatto È l'emblema di Della content creator Che fa il lavoro fatto bene Che fa il content Esatto che fa il content Verità Sì Sono d'accordo Io condivido Anche a me piace Anche a me piace Non male Niente Ogni volta deve sbloccare l'iPad Eh c'è questo momento di No vabbè Cioè Ogni volta No allora A mio rotto A mio rotto L'altro ne abbiamo parlato di recette Ne abbiamo parlato di recette Vuoi iniziare tu? No allora io devo dire una cosa Vai L'ho anche detto a te in privato Sì Dilla al volo Che I suoi video Non mi piacciono Però sono fatti bene Sì Sono editati Fatti bene Però non è il mio Però è tipo dire Non sei brutto Sei particolare Amo Sei molto simpatico Alla fine Però senti leggetta Allora io ti dirò Allora sono La penso come te Però ti dico Ci sono dei suoi contenuti Che dico Ok mi hanno fatto ridere Sì vabbè ovvio Certo Però ci sono alcune cose Che fa anche nella vita privata Che mi fanno storcere un po' il naso Che dico what the fuck I said what the fuck Sì Però vabbè Non è che Cioè alla fine ci sta simpatico Cioè quando Quando lo vediamo Ci chiacchieriamo Comunque non è che è spiacevole Ah Tu hai detto che è una persona Che conosciamo Si restringe il campo Amore Vabbè Cioè Vabbè ma lavoro È viola Io raga Non rappresento neanche Un suo video Neanche giuro Raga vi giuro Veramente raga Zero Cioè so chi è Ok Cioè non So chi è Poi io non faccio testo Perché Ah vabbè Però ok Ok cazzo Però no Secondo voi di chi parliamo Commentate con il nome della persona Comunque volevo dire una cosa Secondo me ci sta avere Degli attriti O comunque delle persone Che cioè Perché essere buoni con tutti Dire No Certo Ma poi no Sai cos'è una mia cosa Che Cioè se tipo tu sei mio amico E tu mi dici Io quello l'odio Io l'odio Chiaro Infatti Infatti ho risposto Ma senza minimamente Cioè Infatti ho risposto Ma poi mi sono reso Ma infatti posso dirti una cosa Bros before house Io l'odio Yes Bros before house Io l'odio Io l'odio Alla fine così Niente dobbiamo aspettare Eh raga ve lo giuro Eh perché dobbiamo riempire Questi buchi di silenzio Ah ma non l'ho visto Ah ma io veramente Favore di farti vedere Chi? Eh questo non è un sai joke Allora è l'amica Allora No vabbè No vabbè Amo però La mi amo La mi amo Ok No la mi amo Io sopevo altro No amo la mi amo Tu sai che È un po' cringe Sì Ok È un po' cringe Sia sui social Sia dal vivo Yeah Però alla fine Cioè non È buona Sì Non fa niente di male È una persona buona Non fa niente di male Assolutamente Zero 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 Che poi chi siamo noi per giudicare Mi viene da dire Chi siamo noi Alla fine Forse parla un po' È rotto? Eh grande potente Parla un po' troppo Parla un po' troppo Mamma mia Doveva essere zitta quindi Cazzo Eh amo Ne tanto si Però C'è veramente alla fine L'amo dai L'amiamo dai Dai Voi Chi Io raga È Per me è Un tramite per Certo E dunque alla fine io Ottimo Ottimo Questa definizione è stata ottima Un tramite per No è che stavo cagando lei Quindi non È un tramite per È un tramite per È un mezzo È un mezzo con cui È un oggetto Però l'amiamo 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 Aspetta che No Però veramente Assurdo Wow Wow No comunque questa scelta di personaggio Veramente mi fa Assurdo questo Sembrare la persona più cattiva Sulla faccia della terra Eh ok bianca La sapevo Da comunque non sono stati così cattivi Cioè alla fine No infatti Però qui Qua io sono cattivo No qua io non ho niente da dire Veramente Cioè I hate Sia No no ma io lo dico Odio Non mi interessa Non mi interessa In tutte le situazioni In qualsiasi situazione Sia Di persona Che sui social Sì Odio totale Sì Io avessi mai sentito una volta Anche Vero Mai sentito Mai sentito E sai cosa Vorrei essere te Mamma mia E sai cosa Sai come lo conosco io Perché l'ho di tu È assurdo alla fine Se ci pensi È vero Te ne ho parlato forse Sì 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 Eh no 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 That's funny È stato potente Cosa dicono Che siamo cattivi Hanno ragione dai Dai hanno ragione Siamo cattivissime Dai le persone più cattive Sono Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio Se solo potessimo raccontare Una storia Non avessi idea Che storia racconteremo Davo Ecco quella storia Tu la sai No Vabbè dopo Non l'ho neanche capito Perché La messa La devo raccontare dopo Allora Però aspetta Io di questa persona Veramente non ho niente da dire Ma perché proprio non so Cioè giù Non seguo Quindi non so cosa faccia Non so Allora io I contenuti che porta Eh io non li ho mai visti Te lo giuro Sì forse sì Un po' lifestyle Un po' beauty Sì Da quello che ha visto Sembrava beauty Molto indifferente Di persona Vabbè Io non l'ho mai Conosciuta Eh che è proprio Un po' mistica Come presenza Sì No ma dopo quella Dopo quella storia Che è successa Ah la voglio troppo sapere Da me la spiegate È successa una cosa Che veramente fa ridere Come Cioè Però l'ho amata L'ho amata È stata iconica L'ho amata È stata iconica Però sì Non l'ho mai vista Mai conosciuta Quindi non posso dire nulla Neanch'io l'ho Infatti bianca Beh io No ma io dico Che la amo comunque Alla fine l'ho amata Nel dubbio si ama Ti dico solamente Che mi ha fatto Una proposta Veramente molto particolare Cioè riguarda La proposta Che questa persona Ha fatto a me Eh Io ovvio che penso Alle cose strane però Eh vabbè Vabbè Ti ha fatto una proposta strana Sì Ok E fa molto ridere Vabbè sono mega curiosa Sì 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 Dimmi amo Mi devi dire una cosa Eh facciamo l'ultimo Sì Perché siamo Siamo a un po' di minuti Ah sì sì Facciamo cose pagnate È che ci stavamo Vabbè ma dai Dura tre ore Mia idola Mi ha idola indiscussa Però tu non mi dai il tempo di vedere Però tu guardi il telefono Non so guardare il telefono Mia idola indiscussa Non ho niente 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 Di male da dire Niente Neanche io Conosciuta di persona È stata forse la prima influencer Che ho seguito Ever Sì 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 Ma io sono ancora proprio starstruck Con lei Ma poi tipo i contenuti che fa Ma anche No lei è troppo Soprattutto le adv Ci sono bellissime Io vorrei sapere Se c'è un team dietro Che le dà la creatività Perché se Allora se la sua creatività È follia E cioè bravissima Mi hanno detto che è lei No ma l'amo 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 È bravissima Mi ha detto che Parlo come lei Filippo me l'ha detto Ah sì è vero Che dire Sì è vero Sì è vero No comunque l'amo Anche conosciuta di persona Sarà la mano Stragentile Veramente iconica No dai 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 Vabbè No come vabbè Se volete diciamolo La diciamo La diciamo dai Giulia Valentina ti amiamo Sei la nostra vita Giulia Valentina ciao Perfetto Bene Perfetto 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 Hai sbagliato Non era quello giusto Ho fatto a caso Era quello sbagliato Ok Secondo game Secondo game Quale vuoi fare Secondo game Voglio fare Il Tabù Il tabù Ok Ci dobbiamo dividere a squadre Sì Allora Tabù sapete tutti Come funziona Facciamo No Rocco è quello che bara Di più Non avete idea Io sono stata competitiva Io non baro mai Quello che ho No lo odio C'è una cosa Che non faccio barare Vabbè No ma poi veramente Odio chi bara Fammi vedere una foto Di Rocco TNL E ti dico che lo odio Allora Sono quattro test Le ho presi a caso Ok Allora Quindi Tiriamo fuori una testa Vabbè ma faccio così Sì esatto E a ogni turno Funziona che A ogni turno Uno della squadra Tira fuori il bigliettino E deve fare Indominare al suo Compagno di squadra La parola Senza dire le tre parole Che ci sono sotto Avete un timer Abbiamo un timer Esatto E se dici la parola Hai perso You're out Beh Sapete tabù raga dai Ci siamo Ci siamo con tabù Ok Però comunque non stiamo No ma hai ragione Hai ragione Hai ragione Hai ragione Direi che avete Un minuto E tre secondi E quindici secondi Ok E più parole Sono quattro Ovviamente Se riuscite tutte quattro Ah ma non ce le dividiamo Due e due Eh faccio io due E poi tu Eh sì dai Più riuscite a farle Se poi anche noi Ne facciamo uguali a voi Vince chi le fate in Minore tempo Però forse non ha senso No 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 Ha senso Ha senso Perché se voi le fate Tutte quattro E magari finite prima Ok Dai Abbiamo quattro In trenta secondi Vuol dire che sì Vado Tre due uno Vai Eh Lo usi tu tantissimo Spazzolino No E cellulare Per farti vedere dal mondo Cellulare È il tuo lavoro È il tuo lavoro Content Sì è il modo Per trasmettere i content Cellulare iPhone No Stando in tliphone Ah tiktok Esatto bravo Vabbè sono fuori di testa Sono io Che abito Nelle cinque vie Amore se io sapessi Cosa fosse Assurdo 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 È una persona No non posso dirlo Amoco perché si vede Popolare No È una descrizione Di un tipo di persona Divina Di un tipo di persona Che sta al centro Della città in cui viviamo Che Non vale perché io non sono di Milano Dai 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 Amo si sa Pariolina No No Simile 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 quel tipo lì Brianza No Brianza Non posso dirlo No dai Amo Amo Ah e Gotica Gutturale Ah voglio avere un ape Eh Da voi Sì 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 bravo Che cazzo Allora era una cosa Che usavi Tanti anni fa Per farti un autoscatto E poi applicare un filtro Selfie No 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 Non lo so Snapchat È finito Cioè questa è la tua sveglia Comunque è assurdo Parliamo un attimo Della suoneria Che ha come sveglia Ma io sono una schiappa forse Vabbè si rifà Abbiamo un bonus Vedi è così Lui bara sempre Vuole sempre vincere Vuole sempre vincere Tanto loro non faranno Quattro Tutti insieme Ma sapevo radical chic Timeramo Assurdo Bastava che mi cessi E la bianca È vero Hai ragione Hai ragione Non ci ho pensato Vado 3 2 Chi inizia? Io 3 2 1 Bu Merde schiappe Zitto Perdenti Follia Radica 5 Follia È una parola Sì Ok Allora Dove giocano i calciatori? Allo stadio Sul campo da calcio Campo da calcio Campo Calcio La prima Campo Perfetto Tu sei una persona molto alta Sì Il contrario è Basso Campo basso Vabbè 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 Allora Non so se puoi dire su tiktok Perché vorrei un botto Allora praticamente È una cosa Quando io ti dicevo tipo È come il cocco È pelosa E ha un liquido Ti ricordi? Amo dai È come il cocco È pelosa Ma di cosa parlate solitamente? Continua Continua Non lo so È la palla Ha un liquido Il gioco carta forbice sasso Ok Ok c'è un modo Un altro modo per dirlo Rock paper scissors No Bim bum bam No si dice morra Morra cinese Esatto Un'altra parola Ho paura Per dire cinese Asiatico No no Per dire cinese Ma la prima parola Per dire morra Morra Ci sono tante parole Che suonano così Di tutte le parole Che suonano tipo morra Amore te ne direi una È quella È quella Amo è finito Vabbè Faffanculo Però era veramente difficile Ma posso vederlo? Borra Ma Che cazzo è? Ma potevi dire Antonella Clerici? Ma non so cosa sia Io lo so Ah è vero amo Perché è un meme Dell'Antonella Clerici È un meme Vaffanculo Non lo so Non sapevo cosa fosse Allora abbiamo ancora Di vincere Amo Che ridere Che ridere Io pensavo fosse Eh Eh io cercavo Cercavi di Vai Allora Aspetta Ti ricordi Sì Cosa? No però noi siamo Pari Ah Sì No due a uno Due a uno Due a uno Esatto Che mi gestisce la vita pure Vai Due a uno Ti ricordi Questa cosa Che avevi nel cellulare Sì Per applicare un filtro E E E No però Questo filtro Aveva una scritta sotto Eh No vabbè Non mi ricordo come si dice No vabbè È troppo piccola No però forse Ce l'ho Ce l'ho No Rocco Ti odio Ti odio Cosa? Non l'ho fatto Non l'ho fatto Non l'ho fatto Non l'ho fatto L'odio 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 Non vale Non vale Non vale Non vale Non vale Meno uno Meno uno Meno uno Meno uno Raga Raga Meno uno Meno uno Raga Meno uno Non l'ho letto Non l'ho letto Sei un coglione Sei un coglione Vedi vedi a parare Vedi a parare Vedi a parare Schifo 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 No ma va Schifo Italiana Non lo so Dai Che cazzo Non è sale eh Pepe Anna Pepe Brava Meno uno comunque Vinto 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 Assoluto meno uno Comunque assoluto meno uno Non avevo visto retica Ah no è vero Ok 3 a 1 Sì perché No 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 Non mi interessa Troppo non mi interessa Vai No Ah tocca a me Stiamo giocando con delle persone false No schifo No schifo Schifo Che coglione Vado Vabbè tranquilla Non mettere il timer eh Scusa aspetta Vai Vabbè raga Ma io non le so queste cose Sì ma infatti Cioè Allora Ma non chiedo Se può cosa fosse Allora Finanzato da Benny Sì Andrea Ok Se è un signorotto Come lo chiameresti? Eh Ah se fosse un signorotto Ah uno sugar pop No 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 Il suo nome In maniera signorotto Ah ma cos'è signorotto? Prendi la Il suffisso di signorotto Ah sì signor L'altra parte Ok 1 2 3 4 Con Andrea com'è? Androtto Andreotti Yeah Ma che Assoluto Esatto Allora Allora Non è trecitaliano? Sì Non è trecitaliano Ma è più vicino a noi Webbo Vabbè facilissimo Dai non vale Non vale Vabbè comunque abbiamo fatto Tempo uguale guarda Sì Eravamo 27 noi Però noi abbiamo fatto quattro Abbiamo fatto quattro Assurdo Ah siamo pari? Siamo pari Non avete fatto borra? Amo siamo pari Ah è vero Siamo pari Ah god 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 Niente sì Siamo pari però Purtroppo Purtroppo loro hanno barato Assurdo che comunque Ne siamo i migliori Laga non abbiamo barato Amo Abbiamo vinto noi Nenni Dai god abbiamo vinto noi Va bene Ok adesso Procediamo con Quale vuoi fare? Il gioco delle cuffie Il gioco delle cuffie Whisper challenge Ok Dovete Il gioco funziona Che Aspetta Sempre a squadre Si procederà a squadre Con un compagno Che magari mischieremo Oppure rimaniamo insieme È uguale Come vuoi Adesso vediamo Abbiamo vinto prima Esatto Una persona Delle due Cioè Rifacciamo Ok Aspetta Ok C'è una coppia Uno dei due Ha le cuffie Con la musica Molto 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 Forte Sotto E l'altra persona Deve cercare Di farle indovinare Una frase Ovviamente la persona Con le cuffie Non sentirà Quindi la persona Il compagno Deve capire la frase Semplicemente Super Iniziamo noi O voi? Voi Iniziamo Ok Come prima Vuoi mettere tu le cuffie prima? Quindi io devo indovinare Sì Vai Oddio che silenzio Metti il timer Vai Ah sì Aspetta un secondo Hold on Di quanto però? Fai un minuto e un quarto Un minuto e un quarto? Un minuto e quindici secondi Quindici minuti Ci sei Grissinbon Oggi porta in tavola Una robita Non capisco Non capisco veramente niente Ma sto urlando? Sì un po' Allora Si può No Da ora Grissin Bon Oggi Porta in tavola Grissin Ah ma non devi gridare Fai più Grissin 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 Grissinbon 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 Oggi Oggi Porta Porta In tavola A tavola Cos'è in tavola Vabbè ma non si può mimare Una novità A tavola In tavola In tavola Una novità Una novità Una novità Bravo Ridilla Sì ridilla tutta Grissinbon Oggi porta in tavola Una novità Sì Giusto Giusto No raga non sento un cazzo Vai amore vai Ah ma devi continuare Oddio oddio Scusate Feel the rain on your skin Eh Ma fammi Fammi La biale Feel È inglese Inglese Figli No È inglese Inglese Timer 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 Ti è la se vuoi per dopo Cosa sta succedendo Non dìgliela Ah Finito E bloccami la musica Perché non capivo Nella nulla Assurdo amo Ma zero Zero Ma è successa una cosa del genere Assurdo Vai amo Inizio io Con le cuffie Sì No No Sono quelle giuste No sono quelle Angelo Però non voglio Nicky Minaj Mi sblocchi il coso L'amo però la nicchia Metti tipo metal Aspetta No perché Ah metti Rosevillian No no tranquillo Ok Non sento niente Non sento niente Ma non stiamo parlando Lollo Lollo Raga non sento niente Gli affitti Gli affitti Che parla piano comunque Milano A Milano Sono Sono Diventati Diventati Insostenibili Insostenibili Gli affitti a Milano Eh Nello Nello Oddio ma quello è Nello Taver Vabbè non ci credo È successo veramente Se Se Esiste 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 E se esiste Premio Primo Premio 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 Per Per Gli 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 Ingenui In Per Ingenui Non devi urlare di più tu Se esiste Se esiste il primo premio Per gli Lui aggiunge parole Così è una frase a capo C'è chi Ingenui Ingenui Io Io L'ho L'ho Già Già L'ho già Vinto Vinto Da Da Tempo Tempo Se esiste il primo premio Per l'ingenui Io l'ho già vinto da tempo C'è ancora tempo Quanto l'avete Ma non l'hanno avviato No vabbè ma mi fanno vomitare E dopo siamo noi che parliamo assurdo No vabbè raga non ho parole giuro No vabbè siamo due minuti in mezzo Ovviamente abbiamo avvento Ti puoi bloccare No tranquillo Allora uno non capivo un cazzo Bellissima canzone comunque Che canzone è? Big Mama Fit Miss Ketta Te l'avevo detto io Bellissima Bellissima Vabbè però Sì raga dai due Non tre ma due Sì raga dai Cosa in che senso? Due indovinati su tre Cioè Ah sì Però sono bravo eh Veramente bravo Che canzone vuoi? Amo quello che vuoi Cazzo non si sente No amo ti giuro non si sente niente Che fastidio Allora ti metto Cosa non le piace? Amo Metti le play hum hum Di Cristina D'Avena D'Avenia D'Avena D'Avena Amore ti metto questa dai Aspetta Ok Vai parfolia Sì Non pensavo fosse incaricato del timer anche quando gioco Ah ma questa frase è un crimine d'odio penso E poi che sia capitato a me a Sturdo? Oggi? No Gesù Gesù È Veneto È vero È veneto È veneto È ferito? Sì È veneto È ferito? No Gesù Gesù È veneto È freddo? No È veneto Non capisco raga Venezia Finestra? Venezia E si chiama Si chiama Rocco Rocco Gesù Gesù è resorto È veneno Io Da dove vengo? Io Gesù è veneto Gesù è veneto Ed è robo Si chiama Rocco Si chiama Rocco Brava Aspetta Velocemente È strano È strano È strano Finito È stradio Finito È stradio È strano È stradio Finito? Vinto No ma era finito prima Vinto E andiamo Vabbè Ok Potete mettere voi il timer questa volta che Sì ma più che altro abbiamo solo uno Perché voi non l'avete messo Quindi avevamo un po' più di tempo Ma ti piaceva la canzone? Moltissimo Ne abbiamo solo uno più che altro Ah Le cuffiette Eh sì ma Capito? Ah E quindi? È vero ne abbiamo solo uno noi E vabbè fanne uno Vabbè fanne uno Ok Beh metti comunque uno Un minuto E quindici Sì Che sorridi Ho messo anche lei quella Ok Sei pronta? Sei pronta? Cioè vabbè Camma fa Camma fa Tic toque Tic toque E facimmela buona E facimmela buona Dai brava Non è possibile che hai imparato camma fa Scusami Cioè che hai capito camma fa Ma tanto abbiamo vinto noi comunque È vero Perché loro hanno barato Non hanno messo Ma vai affanculo Ma vai affanculo Se ci pensa al furdo È vero Ah noi abbiamo l'ultima Che è quella che prima Non hanno fatto in tempo a fare Ah E cos'era? Allora Potete vi darcela Cosa vuol dire? È quella Feel the rain on your skin Ah ma è impossibile Anche perché non suona inglese Quindi c'è Vabbè Va bene dai Anche qui Abbiamo vinto No voi non avete messo il dame Ma come avete parlato voi? Però Però posso dirti Se non eravamo all'un minuto e quindici Eravamo all'un minuto e venti Capito? Cioè Dai 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 Vabbè Last game Adesso last game Che è il più spicy Oddio paura Concludiamo con lo spicy Perché è divertente Traduci il nome inglese Che è spill your guts Vamos a per Bonitati Gli intestini Gli intestini No Cioè butta tutto fuori in realtà Facciamo così Butta fuori Butta fuori Butta fuori Butta fuori Perfetto butta fuori Abbiamo qua dei bicchieri d'acqua Dei bicchieri d'acqua Acqua Buona Particolare Buona Saporita Che ti rende felice Che ti rende happy E lollo non beve spesso tra l'altro Io non bevo acqua ragazzi Per dirvi Non la bevo l'acqua Loro sì Io no Quindi abbiamo deciso Però non la reggo più tanto bene Come una volta Hai 45 anni Esatto Hai 45 anni Quindi abbiamo Two for you No veramente Questa cosa Due Sì Allora io ho pensato No no voi due Perché è gioco per voi due Dovete leggere la domanda E rispondere alla domanda Tutti e due rispondiamo alla stessa No Chi lo pesca Ah Ok E se non volete rispondere però You gotta drink Sì Ma quindi scusa Sono tre a testa Quindi a una per forza Bisogna rispondere alla fine Sì Quindi Dovete valutare bene voi Quale è più conveniente Certo Guarda che ho fatto anche per voi Perché magari tre shottini comunque Esatto Mamma mia No ma io dopo metà Di acqua Di acqua Ovviamente Certamente Iniziamo Iniziamo Vai Rocco inizia tu Vai Fuck Fai una classifica per bravura di content creator Cecil Cantarone Cecilia Cantarano Sara Verde Aisha Pierangelo Greco Camio Oddio però Vabbè però Sono in difficoltà perché tipo Cioè Sono tutti bravi Tutti bravi Sì Tranne Pierangelo Greco alla fine Ah Pierangelo Greco ultimo Allora sono tutti i miei amici Quindi è difficile Oddio No però lo posso fare Dai Lo faccio? Lo faccio Tu cosa diresti? Assurdo Allora Per Bravura di content creator Però anche in base ai miei interessi alla fine Amo Non pararti Capito com'è Allora per prima Metto Aisha Ok Secondo me si informa tantissimo Concordo Studia libri per fare quei video Concordo con te Quindi la metto per prima Poi metto Cioè Un po' a pari merito Cecilia Camioc Ok Hanno anche il vibes abbastanza simile Non saprei proprio chi mettere Prima dell'altra Poi metto Sara Verde Perché Vabbè mi fa un botto ridere E per ultimo Pierangelo Greco Love you Pierre Ti amo Pierangelo Tocca a me Vai La più brava è il radio delle perfette Allora voi dovete sapere Che queste tre perfette Sono molto permalose E E quindi Non saprei chi dire Quella meno permalosa Forse Eh ma non si gioca così Eh non si gioca tipo No 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 infatti Eh no no infatti Stai bravando Alice sei collegata adesso Così Ora A chitto mi sono collegata Allora Anche lui Sì sì La più brava delle perfette Perché io non so Che cazzo di domande ci sono là raga Io non so che cazzo Mi date un aiuto? Ci sono domande più peso da? Non dipende da te Vabbè perché poi io posso dirlo No vabbè Poi No raga Non avete idea quanto sono permalose queste qua Non avete proprio idea Veramente raga Non avete idea Alla vostra Tutto è tutto in un sorso No raga È assurdo poi andiamo in palestra E lui sarà Con troppa acqua in corpo Assurdo Ouch Sto piangendo raga Non avete idea Ma ti manca? Come sensazione? Alla fine l'H2O è la cosa migliore No ma raga Assurdo Oh mio Dio Oddio 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 E comunque Alice Ci credo Se non ne aggiungo questa puntata non riuscirà mai Ci credo Oddio Allora L'influencer con cui vorresti uscire è on a date Uh bello Vabbè No è però sto pensando Sai che io non Eh Non ce n'è Ce n'era uno Vediamo se capisci Che poi Cioè che lo conosciamo anche Lollo Ah è No Luigi Giaretti Ah Ah Ehm Oddio però non lo so Poi siamo diventati amici Però Cioè Non ne ho uno forse Ah vabbè Ma posso fare tipo ai piani alti Eh Ma alti cosa vuol dire America tipo No tipo Cristiano Cazzo Accamo Ah ok Va bene Ci sta Sì Ma posso bere lo stesso Amo non te lo consiglio Amo sei sete Eh che ho sete capito Sì Alla fine No assaggio però Tanto io Prendo Allora No mamma ma poi Ma poi Non ho mai assaggiato questa cosa Mamma mia ma che cos'è Cioè sta tipo di bruciata Amo c'ha proprio il calcare Delle tubature Del rubinetto Amo è acqua tipo fumicata Ma è quello E quello è quello Brava 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 È affumicata È quello L'idea Allora Un lavoro che ha fatto Rocco Eh vabbè ok Un lavoro che ha fatto Rocco Di cui sei più invidioso No Però non posso dire Un lavoro Allora Un lavoro che hai fatto tu Di cui sono invidioso Abbiamo fatto gli stessi Sì abbiamo fatto tutte le cose uguali Cos'è che hai fatto tu Che io non ho fatto Successo Periodo Ho sbagliato Allora aspetta Vado a vedere un attimo gli edivi di Rocco Ci metto un secondo Ragazzi Eh amo ma no veramente Perché non mi viene in mente cose che non abbiamo fatto uguali Perché Vabbè io ce n'ho uno tuo Così Per occupare il tempo Vai Con la finestra Ci pensate No amo io ti direi Magari tipo Vorrei tanto provare La Philadelphia vegetale Quella mi è piaciuta tanto Ci sta Però Per il resto abbiamo fatto tutte le cose uguali Sì Presa poco Vabbè Più o meno Presa poco Non è stato sbatti questo Sbatti a ricordare Forse abbiamo fatto abbastanza sbatti Ne avevo alcune più sbatti Vabbè tutti Un video di Lollo Che ti ha fatto zero ridere Oddio Eh no però ce ne sono Anche a me ci sono certi Ma ovvio Eh quale L'ultimo Dai l'ultimo E anche il penultimo E quello prima Ok Gli ultimi dieci No Non lo so è l'ultimo Cioè non No non mi viene in mente Eh di ne uno a caso amo Uno della Tipo gli ultimi americani magari Un video tuo che mi ha fatto zero ridere Perché l'hai guardato detto che merda Ah è vero Eh no Che ho detto proprio Di proprio No 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 Di uno che proprio non ti è piaciuto No è che proprio non c'è non mi vengono in mente Però non dire a DB perché Non è che ci sono memorie i tuoi video Non sono così tanto fan Ah ok Ah ok va bene Eh Ti giuro non c'è non mi ricordo Vabbè dai non mi seguo neanche su Instagram No Stiamo bloccato Cioè assurdo i tuoi video non li vedo Allora Eh video mio di Rocco che non mi ha fatto ridere La live di Gesù Cioè No invece quelle mi facevano tanto ridere Ma è assurda sta cosa Perché io odio Mi facevano tanto ridere Eh no che non mi ha fatto tanto ridere Cosa è successo Cosa è successo Stavo guardando i video di Lollo Ah 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 Hai sentito proprio Ma in effetti amo Cioè almeno a un momento di ogni video C'è un C'è un sorriso Che mi scappa Solo uno è Solo uno No solo uno Però effettivamente è vero Non ce li ho Boh probabilmente uno che abbiamo fatto insieme dai Ah è vero No che poi la cosa brutta È che facendo i video e montandoli Li guardi talmente tante volte È vero Che non ci fanno più ridere Che non ci fanno più ridere Che io alla fine dei video li detesto Eh ci sta Però dico bello pubblico E poi Cioè Magari è carino A qualche persona fa ridere A due o tre persone Però c'è io li detesto Perché proprio rivedendoli talmente tante volte C'è solo uno Allora un italiano medio che ancora guardo E quello di Che eravamo in Inghilterra Quello secondo me fa ancora ridere Ah Cioè quello mi fa ridere Anche quello al moma forse Ah anche quello al moma forse ridere Sì 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 Aveva piaciuto un po' Quello con diretta Di voi tre Anche quello è simpatico Ah sì è vero È vero È vero E ah Devi dirmi Eh no Devi dirmi tu la La sesta Dammi il telefono Cerca sul telefono Sulle note Quale era l'ultima Allora io dico solo una cosa Le gambe inizio a non sentirmele Cioè inizio a avere quel No dimmi che era questo Veramente Muoviti Vabbè sto male raga Sto veramente male No C'è arrivata Tutto lei Per questo che la migliore È Arice No è una parola Ophilia You've been on my mind No ma non ce l'ho un altro Ah no È assurdo È assurdo però non ha senso Scusate Allora se volete dal pubblico Avete una domanda Eh Dai sì Sbatti Cioè sbatti Nel senso comunque Andando un po' spicy Da fare a Lollo e Rocco E loro se potranno rispondere Risponderanno Se non potranno Berranno Ok Water Ok E però Diamo un tempo Insomma non è che siamo qua Di 10 ore Quindi No Anche perché abbiamo già 57 minuti Sì esatto Alle 58 Al minuto 58 Esatto Ok quindi muovetevi a fare domande Ah Pensavo ci fosse già A nessuno frega Ma poi niente di voi Mi sa Niente È assurdo È assurdo se ci pensi alla fine C'è una domanda Che uno di due vuole fare all'altro Che Ah bello anche tra voi due Tipo c'è una canzone che parla di me Tipo quando il genere Con Harry Styles Avete presente? Vi siete mai baciati? Forse Tipo a stampo Sicuro Ah ok ok Ah ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Abbiamo una domanda Vai Marta No volete sapere C'è un aneddoto divertente Di come siamo iniziati A conoscere Di come siamo diventati amici Ok Vai Io praticamente ero fan di Rocco E ero molto Cioè Mi facevano tanto ridere i suoi I suoi video E quindi ho iniziato a seguirlo Comunque a fare un po' Lo stan Proprio il fan E lui Cosa aveva fatto? Bloccato Non ci credo Giuro se dio Bloccato Mi stava sul cazzo Non ci credo Non ci credo Perché forse era un po' troppo esistente Ma c'è una cosa Che non ti ho mai detto Oddio Dille live No si Che C'è stato un periodo Che io commentavo i film Sulle storie E avevi iniziato a farlo anche tu Con scam Ah E quindi ho detto Vabbè Lui l'odio Ecco perché l'odio Eh lui è molto così però Quando fa una cosa Poi la vede che la fa un'altra Dice Mi ha copiato No Adesso Beh un pochino Sì Però me ne fregherebbe zero Sì sì Quello sì No non geloso Forse che Che poi magari è una coincidenza Sì no infatti Cioè capito Però ci pensi No vabbè anche io lo faccio ovviamente Però vabbè ho proprio detto Vabbè l'odio E mi ha bloccato E non mi ha sbloccato Da quel momento Infatti è un vento Esatto Allora qua ce n'è una Allora ce n'è solo un po' In chat E un po' che han fatto Dal pubblico Vai Un content creator Che quando lo Barra La vedi Dal vivo Non la riconosci Oddio Io ce n'ho proprio una In me Veramente Cioè è proprio la prima volta Che l'ho visto Ho detto Ma chi cazzo è questo No ma perché Ma perché tipo Usa Faceium A livelli No FaceApp A livelli Spropositati Ah sì Quasi iconica Ma Ah ma È un No Ah è una Pensavo fosse uno No Che mi avevi fatto vedere anche Ah Eh Però non mi ricordo Il nome di quello là Io non ce l'ho in mente Sinceramente Beh tu ce l'hai Vuoi dirlo Ma vabbè non posso dirlo Dai Allora la devi bere Ah Non mi ricordavo più La mo devi bere Ti ride No Non costruisco nessuna Era schifo Amo Non hai idea È l'acqua veramente più cattiva Che io abbia mai Assaggiato Mamma mia Amo E adesso ce l'hai una Eh un'altra Ultima Poi basta Perché Sì Insomma Dai Scegliete un content creator Che Se uscisse dalla scena di tiktok Secondo voi non cambierebbe nulla Mamma mia raga Però queste cose sono veramente pesanti Eh dai Allora Aspetta Perché magari c'è qualcuno Che ti dico Che puoi dirlo Che posso dirlo Perché magari qualcosa Cioè io sto pensando Magari anche a persone che conosciamo Che magari stanno già iniziando a fare meno tiktok Perché vogliono puntare Vogliono puntare già su altro tipo Non so Recitazione Queste cose qua Lollobarollo Tipo Esatto Se ci pensi lui No però dico tipo Cioè anche se Allora Hear me out Se tipo Jenny Dovesse smettere di fare tiktok Jenny Danucci Ah ok Però non è una content creator Dai Beh però lei comunque È anche content creator Cioè comunque Ha una fan base enorme No però è più una roba per cui Non che tu scegli di cambiare Perché vuoi Dedicarti ad altro È una roba per cui Perché a te non piace Perché per cui tu Magari ti impegni anche un botto Ma fai cagare E quindi È inutile Cioè il tuo impatto sui social Non ha Eh ma raga Ma chi è che fa veramente Cioè chi è che fa effettivamente Tanti A voi ce l'avete Sì Certo Però io non gioco Cioè tu ce l'hai E dimmelo nell'orecchio Ah No Non è vero Gira 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 No No Cioè tu Dimmelo nell'orecchio Vabbè Sto uscirai Io ce l'ho Sì Tadale sono d'accordo Ah tu dici Sì sono d'accordo Sono talmente tante Che tra tutte Quella che mi piace di meno Ok sì Allora io Allora Tra tutti tipo I tipi di content Su quel tipo di content È quella che mi piace di meno Quindi Hai ragione Sì è vero Effettivamente Se prendi una delle ragazze Di Beauty Creator Dici La togli Non cambia niente Sì sì è vero Ah vabbè sì ok Però loro sono più influencer Che content creator Ah ok Quindi è un po' Un po' diverso Io raga Non 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 rispondo Scusa invece qua chiedono Persona che sembra antipatica All'apparenza Ma in realtà È il contrario Tu intendo comunque Di bere perché Amo Guarda che veramente Vado in bianca Persa Cioè io sto male Ah Sono strabile Ti entravo Lui tra Vabbè Bevo la prossima No ma poi sto male Veramente raga Facciamo metà Sì metà dai Sai che Questa domanda qua Non saprei a dire il vero Perché mi vengono in mente Persone che all'apparenza Sono simpatiche E invece sono al contrario Certo certo Sto veramente male Io non A parte che non ne conosco Io Amo devo Vomitare acqua That was gross No Per fortuna Un po' di te per sciacquarti la bocca Per fortuna Ma poi Mi brucia tutto Io sento la puzza Mamma mia Prendere un difetto di letta secco Allora Ok perfetto No cos'è che stavi dicendo Della domanda di prima Un content creator Che è antipatico all'apparenza Ma in realtà è il contrario Che è antipatico all'apparenza Ma in realtà è il contrario Ah Vabbè tipo Pierangelo Greco Ah sì è vero No io lo amo infatti È vero è vero Io guardo le storie di Pierangelo Dico Sei antipatico Sì magari qualcuno che dici Nell'immaginario collettivo La gente pensa Ok questa qua è la mena Invece sarà simpatico E invece poi fa ridere come la merda Beh raga Io ce l'ho una A me fa mega ridere Sofia Grisafulli Perché magari dall'apparenza Sembra quella ragazzina zanza Un po' così E invece è stra simpatica E invece raga è stra simpatica Un botto Quindi io direi Però ho già bevuto Eh Ma hai risposto infatti Non dovevi bere All'altra domanda non ho All'altra domanda non ho risposto Vabbè ragazzi dai Vabbè Comunque vi hai risposto a un po' di cosa Infatti 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 Eh? Stato divertente? Molto Secondo me molto Molto Io mi sono divertito Io mi sono anche Ah sì 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 Perfetto Sì 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 Di acqua ovviamente Sì sì Perché l'acqua è frizzante No ma raga Cioè vi giuro una cosa del genere La bevevo da veramente anni Assurdo Io non l'ho mai bevuta una cosa del genere Acqua fumicata? Allora Alice Alice Ne dice ultima Facciamo solo perché sei tu E perché sei a quanto pare La più brava a fare il podcast Di quale tra i vostri amici Content creator Se venisse messo in pubblico Il suo finsta Sarebbe più grave? Beh Raga Rocco Io non lo seguo No amo Rocco No amo Perché tu non vedi Quello che metterò A forse non ti seguo sul finsta Allora O Rocco O anche Beh anche Aisha È vero Anche Aisha Ci va giù pesante È vero Io direi Rocco Aisha Vado a seguirvi ora Quello di Rocco è veramente peso Ah ma io seguo il tuo Seguo quello di Filippo Ma lui quasi non lo usa Io quasi non lo uso Vabbè però un po' di robe ci sono Sì 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 certo Ma scusa dovresti sapere Eh no perché non l'ho più È tempo fa Lei non c'era Quando è che sei entrata nel Sarà poco tempo Nel mondo del social Vabbè Vabbè E va bene dai Basta Dai è stato bello ciao È stato bellissimo Dai ciao grazie Vi mando link PayPal Sì Ah sì esatto Ivan E no dai scherzo Vi amiamo Grazie mille a tutti Per averci fatto compagnia In questa ora Ormai E la puntata uscirà sabato Prossimo E quindi niente Buona domenica Stay tuned Stay tuned Bye E grazie Ciao ragazzi Grazie a voi